Roberto Rossi da sempre coinvolto nella vita comunitaria di Montelabate con la professione di farmacista e anche con l'associazione culturale Monsabbati. Se ora questa sfida elettorale della candidatura a sindaco con la lista civica bene e comune, con quali obiettivi? Una lista civica fatta di cittadini e cittadine di Montelabate che vengono mossi in questo da una passione, da un affetto per il proprio territorio e per la propria cittadinanza e quindi non vengono mossi da una rabbia per le cose che normalmente non vanno o da qualche recriminazione da fare a qualcuno ma appunto da un amore, da un amore per il proprio territorio, per la propria gente e dalla voglia di guardare avanti e di vedere crescere Montelabate e di vederlo crescere insieme alle realtà che ci affiancano a tutto il territorio. Quali sono le priorità in caso di successo elettorale? Abbiamo le idee molto chiare, distribuiremo nei prossimi giorni alla popolazione questo piccolo libretto, questo libretto di 50 pagine di immagini e di parole in cui raccontiamo il nostro territorio, facciamo poche promesse ma prendiamo degli impegni importanti, credo, che è appunto principalmente l'impegno di tornare alla gestione ordinaria del territorio, a una programmazione della gestione ordinaria del territorio perché è quello che migliora la vita delle persone poi nel quotidiano e quindi una cura, un'attenzione particolare alle cose di tutti i giorni, all'illuminazione, al servizio dell'illuminazione pubblica, alle strade, alla cura del verde e degli spazi comuni, innanzitutto partire da queste cose, un grande impegno per partire e ripartire da queste cose, quindi dal territorio e poi ovviamente il pensiero alle emergenze, insomma, quelle che sono le emergenze, strade da anni purtroppo inagibili e chiuse per frane, per smottamenti che debbono essere in qualche modo riaperte, oppure la cura dei corsi d'acqua, soprattutto laddove i corsi d'acqua scorrono nei pressi delle abitazioni, abbiamo delle parti dei nostri abitati che sono a rischio allagamento, ad esempio. Ecco, tutte queste cose sono tante, insomma, poi sono le emergenze alle quali dovremmo in qualche modo, nel caso in cui saremo chiamati ad amministrare il territorio, dovremmo rispondere per migliorare la vita della popolazione. Poi ci sono le opere straordinarie, ma quelle vanno programmate e meditate con serenità e con calma e soprattutto in accordo e in sintonia con il sentire anche della popolazione.